bella a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video qua filo 22 che vi parla oggi siamo nella nuova serie di minecraft con christian pio buonasera e con bart ho trovato vieni qua e con matteo vadovili come sono trovato no no ok in mezzo la caverna sì tipo questa mattina hanno giocato tanto e io no perché sono dormendo verso dettagli e hanno preso tipo tre diamanti così era no sta prendendo il carbone veramente l'hai trovato ma io c'ho due cuori e mezzo io ho due cuori e mezzo no no io scendo ma dove stai tu no dai per ultima facciamola qua no no io scendo vabbè io sono andato in un attimo se vuoi venire bene no no eccomi aspetta 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 arrivo no tu dove stai tu lo vedi il mio? ci sta l'acqua io sto andando più giù possibile c'era i labislazzi i labislazzi si stanno qui che hai trovato? ferro? cosa? io lo so metti per il diamante mi hai trovato diamante? mi hai trovato? si eh no ma io ho trovato il silenzio e li prendo? ci prendi? ci prendiamo le cose ecco di mattetti vedo mattetti vedo ti vedo sì ci stavamo sace cavallermi sta pure la lava c'è bene c'era la lava 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 ma non c'è c'è l'acqua si show no ma come una volta alla macchina confusione legno mai latina nonostante buonanno il cui o sforzo ecco di mattina bellini si è che sto scendendo certo sottonato sottolinea e prendilo oddio quanta roba c'è sta qui quanta roba c'è preso non so oh da riesco a dire muore ecco di matte e di velo redstone quanta roba roba c'è sta qui ragazzi dove siete? guarda guarda quanta roba che c'è sta qui ma che ne so ma che ne so eh vedi io stavo sembra tutti si è buttato ma non mi sono buttato ma non mi sono buttato perché dove sbaglio? o vedi un altro ferro beh poi ci vuole essere qualcosa a che livello siamo? ventiquattro e tutta sta roba ma spera raga io non trovo più casa 12 12 12 12 12 8 8 9 9 9 10 10 quando avrà la roba c'è stato ma ci sarebbe avanti o non lo vengono ciao ciao il primo il primo l'anno 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 non ci posso vedere il bambino l'anno il bambino l'anno il bambino l'anno 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 il santo l'anno il l'anno la no l'anno 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 io mi so la le persone l'anno c'era un kibber e riusciva alle le spalle buongiorno non metti da un sacco Cristian no vabbè ho troppi non arriviero oh vi vedo finalmente mi fai una cosa ecco di Cristian ti vedo non c'è il kibber no no non voglio cittare lo trovo più agoniera non voglio cittare ma che kibber non voglio dire il tipo lì così dice eh io so il miniero dove stai parto ah ecco si è una roba tanto questa è casa nostra guardate molto bella è piena quindi da pesare la roba si ah ah si grazie oh non accetterò mai l'acqua io ok mi hai bruciato un po' di roba via ma nulla di che non era ok magari una spada in diamante c'è niente soldate parto parto soldi non so trovando ancora di ma ah no la roba la roba allora piccoli il mio 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 mappure io me l'ero portato ora ho fatto grazie il cibo d'orci il cibo il l'arri 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 la zappa mi per c guardare non ce l'ho la ma v oh v dai e ma as ma chi è che sta falso rumore cristian ti vedo cristiana cristian ti vedo guarda vedi in alto oh ma chi è il passo rumore non so se c'è stata cosa che tu non ho provato eh beh questo guarda vabbè tu potrò inserire le diametrische quanto adottare tu? grazie a te c'ho paura per prendermi davanti e mi stasso suggerito c'ho tutto ma veramente ora mi vuoi stanno io pure tutto tranzane diamanti pure Io vi posso lamentare Io manco del carbone Sa trova E non lo so Non lo sa trova veramente Ho già finito le torce Vabbè cambia caverna Che è cambia caverna? Io Ho trovato qualcosa Ma tutto il cerro mio Barto Con la mappa Io ho solo due Ma poi ci sono giù Ah pure la farm di grano Scusate io il ferro Perché ti guardo io? Ma è vero che tu Oh ho trovato Ho trovato Ho trovato io il ferro Adesso le 11 Perché la cosa può essere Da perché io sapevo che c'era Scusate Si sapevo che c'era Si sapevo A me lo vedo di te Io ti ho preso tutto il possibile Lei mi staccò qui E' pensato a guardare lo studio Lei mi staccò qui e pensato a guardare lo studio Sei bravo Sei bravo Eh perché forse non volevo andare dieci volte più avanti nella serie Non c'erano Non c'erano Non si dica State buoni State buoni Non si dica Non si dica Non si dica Che bravo Si dica Che bravo Scrive Ma ora io con quelli mangi Non si faccio una pala Perchè? Fatela che non è frega a me No 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 Oddio t che è successo il suo mondo disepi un conto lo dito elena tegnar mamma se nt io lo amico io non so 8 noti piccoli ora non c'è la storia di mostro lo scherzo non accanto io non c'è la cosa che ha fatto maniera un cuore no vedo che parla marlotto il volo ma per questo modo di amante ci si so sta strada qui il proprio di scheletri a un cuore bezzo per me muore cristiano che ha detto che voglio io non c'è un cuore mi ha cercato un altro cane sì l'ho cercato io c'è sa niente neanche il caverne no c'è sa niente vai a decidere lo schieno che sta lì con la schiena la caverna e andiamo a decidere lo sono un altro gruppo il cui c'è uno schieno qua gli hai già fatto fa qualsiasi no zero insieme almeno chiara non schieno fa le strade ma lo faccio il suo terzo allora ho finito le torce si affido le torce oh matte matte ti vedo non lo so ma come non lo sai che livello sei io ti vedo e ho visto il tuo nickname 23 ma no non il livello bello tuo 2 io sto prendendo da te io devo spedere se 25 vado a te non dovessi spedere 25 prima di cercare si infatti si vabbè ciao ciao mi prezzo a te ma tu come hai fatto ad arrivare la no ma tu hai detto che tipo hai trovato un buco ma qua non c'è un buco si vabbè ma prima l'ho trovato eh vabbè vabbè di sicuro non l'ho accettato perché io non lo so ma che cosa ma si tu hai detto che hai trovato un buco ma qua non c'è un buco ma all'inizio l'ho trovato eh all'inizio no ma no no io ho un sacco di carbone io ho un sacco di carbone io ho un sacco di carbone io sto trovando un casino di carbone ma non c'è un buco ma io devo spasare fai vabbè dove ti devo lasciare fai e poi scusate cuoce 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 ma hai seguito ma hai detto intorno ecco perché mi sono fatto pure io me sono fatti due di scorta a dalla condividi no cioè condividi il ferro ma con tutti e non con crisi ho capito però si condivide 6 c'è meno che non sei un egoista se a me non mi fa più di prendere il carbone più ne ho meglio adesso un troppo di euro che vuol dire che scavi dritto per dritto a livello del 12 lo so ma perché c'entra la camera sì in effetti no io vedo qualcuno qua eh sono io infatti cambio buc in cui ma abbiamo iniziato oggi questa sera già con l'incudine si costi tanto bene sono cresciato tu sei a un ferro non lo dite perché vedete se c'è la palma perlo se c'hai tipo tre stacche di ferro in caso tanto se c'è uno stacche di ferro non c'è una palma nero si in effetti è sotto davanti a più episodio si in effetti e che vuol dire davanti mica nemmeno la dimostra io almeno ti voglio e che vuol dire io ma quando li ho trovati prima l'altra volta però mi è andato pure perso ma tu sei un livello altissimo e sto scendendo e ho capito cambia buco mica faccio il tu sono ricresciato vabbè ragazzi per questo episodio è tutto ci vediamo in un prossimo episodio ciao gente ciao 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 ciao